Grazie a tutti. Presidio alla raffineria Api di Falconara, fermiamo questo disastro ambientale. Tanti manifestanti hanno aderito alla protesta a un anno dalla precedente mobilitazione. Ancona si prepara per il G7 Salute, ma i negozi saranno costretti a chiudere il 10 ottobre. Preoccupa il piano traffico, soprattutto nella zona rossa, punto nevralgico dell'evento. Vispesaro rimontata dal Sestri Levante, stellone contro l'arbitro, noi penalizzati. In Serie D Vigor Senigalli attesa dal big match contro il Chieti che vale la testa della classifica. Ben trovati con un nuovo appuntamento con il Tg Marche, il nostro telegiornale a firma e cura della redazione di Vera a TV. In apertura la presenza nelle Marche del ministro Lollo Brigida che ha partecipato a Fiastra alla festa nazionale di Copagri. Ha parlato di supporto agli agricoltori alluvionati, prima le persone, poi gli animali e le cose, ha detto Lollo Brigida. Successivamente inizieremo a riparare i danni cercando il massimo delle risorse in tempi brevi. Acquaroli ha detto stiamo operando secondo la linea dettata dal governo, prima la sommorgenza, poi imprese, famiglie e agricoltori. Daniela Gurini. È arrivato alla badia di Fiastra di Macerate il ministro dell'agricoltura Francesco Lollo Brigida per dare il via all'inaugurazione della festa di Copagri, l'appuntamento nazionale che si svolgerà qui per due giorni. Il ministro ha fatto prima un veloce giro di ricognizione salutando i vari produttori, assaggiando, degustando, scambiando anche parole, chiedendo come sta andando il lavoro e poi si è concesso alle interviste. Noi abbiamo chiesto naturalmente quali saranno i supporti, i ristori che verranno dati agli agricoltori alluvionati e lui ha risposto che cercheranno, insomma come da direttive del governo Meloni, in tempi brevi di dare subito il supporto come è stato fatto anche negli ultimi periodi. Anche il presidente Acquaroli ci ha rilasciato una dichiarazione, andiamo a sentire le interviste. Le pressioni sono che il nostro mondo dell'agricoltura è centrale, lavora per garantire reddito ma anche rispetto dell'ambiente. Ministro, come farete per gli agricoltori alluvionati? Che cosa farete? Stiamo lavorando come al solito con un approccio che prevede intanto gli interventi d'urgenza, che iniziano prima a curare le persone, poi gli animali e le cose, e poi ovviamente a riparare i danni cercando il massimo delle risorse disponibili per farlo, così come abbiamo sempre fatto con attenzione, puntualità e col massimo della reddibilità consentita. In assoluto è sempre tardi, ma uno deve vedere quello che è successo nel passato e verificare quanto invece il governo Meloni agisca con tempi più veloci di quelli precedenti. Per quello che concerne gli alluvionati, noi purtroppo siamo un territorio che negli ultimi tre anni ha avuto tre alluvioni importanti, quello del 2022, quello del 2023 e anche quello del 2024. Stiamo operando nella linea strategica che ci ha dato il governo nazionale, prima la sommorgenza e il riparo della viabilità e tutte quelle che sono le questioni più importanti, nel senso per ridare normalità e quotidianità e fruibilità del territorio, poi le imprese e le famiglie e anche le imprese agricole. Quindi su questa linea strategica complessiva stiamo operando con la disponibilità le risorse che ci sono state già date e che ci verranno date al governo nazionale. Partecipato presidio davanti alla raffineria Api di Falconara per fermare il disastro ambientale nel territorio. Al nostro microfono le voci dei manifestanti dicono che non si può andare avanti così, si pensa solo a punire chi protesta. Un altro manifestante dice che le bonifiche private non vengono trattate come dovrebbero. Ciro Montanari. Nuova manifestazione di protesta a un anno circa dal grande presidio davanti alla raffineria Api in occasione della loro celebrazione dei 90 anni per lottare contro il cosiddetto disastro ambientale in questo territorio. Le puzze che ci sono, le ammoglamenti, loro dicono di no ma tanto c'è poco da nascondere ormai. Ormai sono anni che andiamo avanti così. Siamo venuti a sostegno dei gruppi di Falconara contro la raffineria e soprattutto contro l'uso di tecnologie omertose che non dichiarano quello che succede. Il problema è grave sul discorso dell'inquinamento territoriale e anche sul discorso della salute pubblica. La location è sempre la stessa e la partecipazione è stata ancora una volta numerosa, anche per dare solidarietà dopo i recenti allagamenti che questa volta hanno colpito pure il comune di Falconara, in particolare la comunità di Castelferretti. Ma secondo i manifestanti la solidarietà non basta più e serve urgentemente andare oltre il consueto emergenzialismo nella coscienza che il cambiamento climatico e consumo di suolo pregiudica la sicurezza e alimenta un sistema sempre più distruttivo. Che almeno convertisse per non inquina più perché è una roba che non si può andare più avanti così ragazzi. Credo che ormai la vicenda dell'API dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, è una struttura che è completamente invasiva. Sappiamo bene come da tutte le parti si pensi solo a punire chi protesta, chi protesta in modo pacifico e non si punisce chi veramente ci uccide, chi veramente dovrebbe proteggerci e non lo fa e così facendo è come se ci condannasse. Tutto questo a pochi giorni dall'arrivo dei grandi della terra in occasione delle G7 salute che si tratta ancora dal 9 all'11 ottobre. Abbiamo una situazione chiara davanti a noi, ci sono temi che non vengono trattati per come vorremmo, con l'urgenza e la necessità che vorremmo. Uno su questi è il tema delle bonifiche private, quelle che competono esclusivamente al gestore e che dovrebbero essere tali già dal 2014 per decreto ministeriale. Le bonifiche qua servono e sono anche il terreno di confronto con i lavoratori della raffineria perché le bonifiche servono per risarcire il territorio ma anche per garantire un reddito a chi lavora e quindi invitiamo i lavoratori a incontrarci su questo terreno delle bonifiche prima che sia troppo tardi. Saracineschi è abbassati ad Ancona il prossimo 10 ottobre, il secondo giorno del G7 salute. Il provvedimento riguarda i commercianti le cui attività ricadono in zona rossa. Se è vero che un giorno di chiusura non impatterebbe troppo in teoria sulle casse, i titolari e i dipendenti fanno però i conti con la difficoltà nel raggiungere i posti di lavoro durante le altre giornate di vertice. C'è infatti chi ha deciso di chiudere anche oltre l'orario imposto. Gino Bove. 10 ottobre, il secondo nel programma del G7 salute e per i commercianti le cui attività rientrano in zona rossa sarà il giorno X. Chiusura totale dei pubblici esercizi e di tutte le attività a partire dalle 13, fatta eccezione per le farmacie. L'area delle saracinesche abbassate comprende Scalo Vittorio Emanuele, Piazza della Repubblica, Via della Loggia e Via Gramsci e poi i corsi Garibaldi e Mazzini nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Lata e Piazza della Repubblica, Via del Traffico a partire dall'angolo di Via Stagno fino allo sbocco su Corso Garibaldi in direzione Piazza della Repubblica. Infine, Corso Stamira tra Via Stagno e Piazza Kennedy. In accordo con le associazioni di categoria, il turno di chiusura verrà recuperato senza la necessità di ristori per le attività commerciali. Saremo chiusi il 10 pomeriggio, non importa, è giusto che sia così per la sicurezza e per tutto, però credo anche che saranno tre giorni che come clientela non avremo clienti, ritengo perché come è difficoltoso per noi arrivare in centro è difficoltoso a maggior ragione per i nostri clienti, però al di là di quello trovo che per Ancona sia una splendida opportunità. Io personalmente vorrei restare chiusa tutto il 10 e il 9 e l'11 vedremo cosa fare, cosa magari vediamo qui in negozio, ma non credo che ci sia niente da fare perché già l'aria si comincia a sentire. Impatterà sicuramente qualcosa, ma se consideriamo gli anni passati che abbiamo fatto mesi e mesi di chiusura, penso che un giorno non ci inciderà niente. Negli altri giorni di vertice ministeriale, il 9 ottobre e la mattina dell'11, lo svolgimento dell'attività sarà regolare, in teoria, perché in quei giorni i titolari e i dipendenti dovranno pur raggiungere i negozi e tra chiusure e deviazioni di traffico sembra già tutt'altro che facile. Negozi più easy, il negozio Suoce e il negozio Vargas Sistilite si trova in zona rossa, ragion per cui avranno problemi le commesse ad arrivare. Ancora non capiamo bene se devono fare addirittura dei permessi per poterci entrare, perché le notizie che arrivano non sono esattamente chiare. Qualche giorno, se ti faccio vedere, abbiamo una chat qui dei negozi che andiamo dietro con questo fatto dei pass e non pass, chi li deve prendere e chi non li deve prendere. Io sto di casa qui dietro, ancora devo capire se lo devo prendere o no, però ci stiamo informando insomma. Bisognerà organizzarsi con i mezzi e valutare altre soluzioni in modo da poter, potrebbe essere anche un'occasione per far capire agli anconetani che si può arrivare in centro anche in altre maniere. Questione carico e scarico invece per quei tre giorni, due? Ci organizzeremo facendo riarrivare i fornitori i giorni prima o posticipando o alla prossima settimana. Penso che ci si possa organizzare, sicuramente non sarà facilissimo ma tutto si può fare. Salgono a 115 casi di dengue a Fano, ora è stato registrato anche un caso a Pesaro, un uomo di 70 anni che non era stato però in viaggio, ricoverato in ospedale e le sue condizioni sembrano per fortuna migliorare. Nella notte era prevista la disinfestazione in zona Porto dove l'uomo risiede ma è stata rinviata per pioggia. Thomas Delbianco. Il focolaio dengue a Fano ha raggiunto i 115 casi accertati e 10 probabili. Un caso del virus trasmesso dalla zanzara tigra è stato registrato anche a Pesaro. Secondo gli esperti dell'Istituto Zoprofilattico non c'è nessun collegamento epidemiologico con Fano. Nella notte tra venerdì e sabato era in programma la disinfestazione in zona Porto, quartiere nel quale abita la persona infettata dal virus, ricoverata in ospedale dallo scorso 28 settembre. È un uomo di 70 anni, un caso autoctono, non era stato in viaggio. Le sue condizioni sono in miglioramento. L'intervento preseduto dal volantinaggio è stato rinviato a causa pioggia. L'operazione è stata riprogrammata da Aspes, metto permettendo, nella notte tra sabato e domenica, dalle 3 alle 4.30. La disinfestazione avverrà in un raggio di 300 metri da Viale Napoli, 100 metri in più rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza. All'interno dell'area i cittadini dovranno adottare delle opportune misure per evitare possibili punture di zanzara tigre ed evitarne la proliferazione. Per precauzione si suggerisce di tenere finestre chiuse a animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Non è la prima volta nel corso del 2024 che la dengue viene segnalata a Pesaro. Era già successo in altre due occasioni, primo a marzo nel quartiere Pantano, poi a maggio con i casi di due persone infette dalla zanzara tigre rientrate dal Brasile. Al momento i ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio sono quattro, due accertati e due in attesa di conferma. Ricoveri in calo rispetto a due giorni fa, quando erano sei. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Aist1, Augusto Liverani, riferisce che gli ultimi accertamenti eseguiti sulle zanzare catturate dalle trappole non hanno evidenziato la presenza del virus. La curva d'incidenza continua ad avere stabilmente un andamento discendente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Pesaro Urbino, Alberto Carelli, assicura che la curva dei casi continua ad essere sotto controllo. Violenza su una ossa, ieri a Fermo, che è stata presa per il collo, poi per i capelli e buttata a terra da una paziente in attesa per una visita oculistica. Condanna unanime da parte ovviamente di tutti di questa violenza, interrogativi anche però sulle condizioni in cui il personale sanitario e gli utenti si trovano ad operare quotidianamente. Interrogazione urgente di Cesetti sull'accaduto in Consiglio regionale. Donatella Lappa. Ancora personale sanitario vittima di violenza, questa volta a Fermo, dove ieri un'operatrice socio-sanitaria è stata aggredita durante il lavoro nella mattinata di venerdì, mentre prestava servizio di accoglienza negli spazi dell'ambulatorio di oculistica. A denunciare subito l'accaduto è stato il segretario della CISL Funzione Pubblica, Giuseppe Donati. È successo purtroppo che un utente che stava in attesa per essere visitata all'ambulatorio oculistico insieme a tantissime altre persone, perché ieri in contemporanea operavano quattro oculisti, quindi c'era parecchia gente in attesa, ha pensato bene di non voler far attendere il suo momento, di introdursi dentro agli locali dell'ambulatorio oculistico e aggredire l'operatore e l'operatrice socio-sanitaria che è detta al filtro delle persone. L'operatrice socio-sanitaria è tra l'altro molto tranquilla, una persona mite che è veramente rimasta scioccata da quello che è successo, è stata presa per il collo, per i capelli, tirata per terra fino a quando poi chiaramente sono intervenute anche altre persone. Si è rivolta poi alle cure del pronto soccorso e che ha una prognosi per fortuna lieve, però comunque il fatto è estremamente grave perché è un segnale, è un campanello d'allarme di cui dobbiamo tener conto per rivedere l'organizzazione e anche l'ubicazione di alcuni ambulatori, alcuni servizi che sono collocati in ambienti non idonei ad ospitare tanta utenza. Se la violenza subita dalla os da parte di una paziente originaria di Caivano che al momento dell'aggressione si trovava in attesa di una visita in compagnia del marito può essere soltanto condannata, è tuttavia necessario sottolineare le condizioni in cui il personale di pazienti si trovano a doversi commisurare. Abbiamo strutture che sono vecchie, strutture, quello del poloambulatorio di Via Gigluci è una struttura vecchia con spazi molto ridotti, l'ambulatorio oculistico per esempio non è dotato di una sala d'attesa, le persone sono in fila davanti all'entrata vicino alle scale, l'estate non c'è area condizionata, non c'è un tabellone elettronico per le chiamate per la numerazione degli utenti, quindi tutto questo crea sicuramente un ambiente poco consono ad essere rilassati e quindi non giustifica assolutamente reazioni di questo tipo ma vanno tenuto conto anche che bisogna agire su due fronti, uno su un miglioramento delle condizioni di ospitalità degli utenti, due anche dotare il numero giusto di personale e di operatori, i servizi perché chiaramente quando ci sono quattro medici che operano in contemporanea non ci può essere solamente due infermieri e un operatore socio sanitario per far fronte a tutta l'utenza. Unanime la condanna sull'accaduto con il direttore generale Roberto Grinta che vuole fare piena luce sui fatti ed ha espresso in una nota piena solidarietà alla ossa aggredita che ha invitato a presentare denuncia. Il consigliere regionale Fabrizio Cesetti presenterà lunedì una interrogazione urgente in consiglio per sollecitare, come richiesto anche dai sindacati, l'immediata attivazione di misure di sicurezza e organizzative che consentano di prevenire il ripetersi di fatti simili, gravissimi e sconcertanti. Il messaggio finale di Donati è un messaggio ai violenti e agli inquirenti. Il decreto 137 che è andato in vigore il 2 ottobre appesantisce di molto le pene, prevede anche l'arresto e una multa fino a 10.000 euro in casi in cui ci sono concalmate prove di aggressione diretta al personale sanitario. Diciamo che è un primo passo, noi ospitiamo anche altre misure da parte del governo perché il personale sia sempre più tutelato e possa operare in tranquillità e lavorare anche senza l'incubo di dover anche difendersi da chi deve curare. Ecografi per potenziare la capacità diagnostica della medicina generale sono stati acquistati dall'Ast di Ascoli per l'assistenza primaria in 17 comuni all'ospedale Mazzoni. Il direttore dell'azienda sanitaria territoriale Nicoletta Natalini ha consegnato i palmari ai medici delle aree interne del Piceno. 17 ecografi palmari sono stati consegnati ai medici di medicina generale che prestano assistenza primaria negli ambulatori di altrettanti comuni delle aree interne del Piceno. La consegna è avvenuta all'ospedale Mazzoni per mano del direttore generale dell'Ast Nicoletta Natalini alla presenza del direttore socio sanitario Sonia Carla Cicero, del presidente dell'Unione Montana Tronto e Valfluvione Giuseppe Amici e della direttrice del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti. Per un costo di 3.100 euro ciascuno più IVA, i 17 ecografi palmari sono stati acquistati dall'Ast con i finanziamenti dell'accordo di programma quadro area interna Ascoli-Piceno, di cui ente capofila è l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione e con cui l'azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha stipulato una convenzione per la realizzazione di diversi interventi previsti nell'accordo stesso. Come saprete sicuramente 17 dei comuni di questa provincia sono all'interno della cosiddetta area interna e vengono considerati particolarmente svantaggiati sia da un punto di vista orogeografico che di popolazione. Tutte le strategie che si possono mettere in atto per supportare questa popolazione sono benvenute. In particolare noi come Sanità collaboriamo appunto con l'Unione Montana per trovare delle strategie comuni. Questa è l'ulteriore azione che viene fatta dopo l'insediamento degli infermieri di famiglia e comunità che porterà uno sviluppo territoriale. Queste ecografi vengono date ai medici di medicina generale che lavorano già in questi 17 comuni per supportarli e migliorare le loro capacità diagnostiche durante le visite ai pazienti. A ribadire l'importanza di tali strumenti anche la dottoressa Picciotti. Grazie a questo strumento il medico riesce a fare diagnosi in tante situazioni senza doversi avvalere di un'ecografia effettuata da un radiologo in un posto che è lontano dall'abitazione di quel cittadino. Con questo apparecchio le diagnosi possono essere fatte in ammuratorio o addirittura a domicilio del paziente. Quindi è uno strumento ulteriore rispetto a quelli che il medico ha già rappresentati dall'anamnesi, dalla palpazione, dalla percussione, dall'ascoltazione fatta con il fonendoscopio. Questo è qualcosa di più rispetto a questi strumenti. Quindi sicuramente c'è un salto di qualità nel tipo di assistenza che eroghiamo i cittadini residenti nelle aree interne. Questi i comuni coinvolti dal progetto Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto Marche, Monte di Nove, Montegallo, Montemonaco, Fida, Palmiano, Rocca Fluvione, Rotella, Pignano del Tronto e Venarotta. Questo diciamo è un qualcosa in più, nonostante noi abbiamo messo in campo l'inverniera di comunità, stiamo consegnando i defibrillatori con i corsi, uno a comune, quindi anche impegnando, diciamo, qui stamattina sono chiamati i tre personali di abitanti dei comuni per partecipare a questo progetto per l'utilizzo dei defibrillatori. Ci si pensa insomma che su questa linea la scheda sanità sta raggiungendo gli obiettivi per cui è stata pensata, ideata e quindi strutturata in questo modo, quindi raggiungere i cittadini all'interno. Lavori di riqualificazione nel via Montello a San Benedetto dove è stata istituita la zona 30, realizzata la nuova passeggiata che corre sul lato sud del torrente Albula, qualche polemica per la segnalettica come le strisce pedonali che vanno a sbattere contro il muro. Stefania Serino. Decoro e sicurezza, questi gli obiettivi dei lavori di riqualificazione che sono stati eseguiti in via Montello a San Benedetto del Tronto dove è stata istituita la zona 30, lo vedete alle nostre spalle, è realizzato il passaggio pedonale a sud del torrente Albula. Beh, è più bello, sicuramente sì, sono d'accordo per questo. Hanno istituito anche la zona 30, lei ci crede che le macchine andranno meno forte di prima? Ma penso di sì. Vabbè, migliorata su questo lato sicuramente, anche l'altro è una bella passeggiata, sì, sicuramente. È il letto dell'Albula che forse ha bisogno di un po' di manutenzione. Sicuramente il posto più brutto è proprio davanti a casa mia, di su dell'Obitorio. Ha fatto la pista ciclabile di su per due case, di qua giù ci passano le due e noi, ma poi le radici dei pini ha fatto, si è levata tutta la strada. Quindi andrebbe riqualificata anche la zona più a nord? Io preferivo più di su. E c'è un punto di via Montello che ha destato qualche perplessità costituito dalle strisce pedonali che vedete alle nostre spalle, che partono dalla nuova passeggiata e vanno praticamente a terminare contro il muro di quella privata abitazione. Quelle le ho contestate appena che l'hanno fatta. Io ho detto scusi, una attraversa strisce pedonali che andare contro il muro, non so se quella è, io mi meraviglio, che è quello scienziato che ha avuto una bella idea. Certo che quella è la cosa più... Abitare, vivere il territorio, questo è il titolo del convegno che si è svolto a Comunanza, che ha fatto da preludio alla storica Fiera degli Uccelli, in programma nella giornata di domenica. Diversi relatori che si sono confrontati sulle politiche da attuare per evitare lo spopolamento e rilanciare l'area montana, tra questi anche Guido Bertolaso. Lo spopolamento è un problema che nel Piceno, soprattutto dopo il terremoto di otto anni fa, riguarda tanti comuni dell'entroterra, molti dei quali stanno studiando delle soluzioni per provare ad arginare il fenomeno. Un'occasione unica di confronto sull'argomento è stata il convegno dal titolo Abitare, vivere il territorio, che si è svolto venerdì all'auditorium di Comunanza, organizzato dall'amministrazione comunale, comunanzese guidata dal sindaco Domenico Sacconi. È il nostro primo appuntamento che affronta un tema importante, il tema dello spopolamento. Noi come amministrazione ci stiamo ponendo il motivo per cui far tornare gente, nel senso che Comunanza è un paese dinamico sotto l'aspetto artigianale e industriale, quindi non ha nessun problema di carattere del lavoro. È un paese dove la percentuale di criminalità sta ai minimi a livello nazionale, c'è una qualità della vita altissima, quindi noi questa sera vogliamo cominciare a capire i motivi per cui manca quell'attrattività, quindi quell'appeal per per vivere in queste zone che per noi è veramente un paradiso. Noi siamo partiti da un tema che è quello dell'abitare, perché è un concetto fondamentale per proiettarci al futuro. Non parliamo di spopolamento, ma parliamoci, proiettiamo al futuro per capire il perché qualcuno deve continuare ad abitare qui. Riguardo al tema delle attività produttive del lavoro, anche lì ci sono delle difficoltà e quindi reagiremo per queste difficoltà. Sappiamo che c'è necessità di lavoratori, perché qui nel nostro territorio non ce ne sono e quindi dobbiamo rimuovere questi ostacoli. Quindi molto presto, successivamente alla fiera degli uccelli di questo fine settimana, sicuramente ci saranno delle iniziative proprio per il lavoro che abbiamo già pensato e che sono il rampa di lancio. Un convegno, quello di venerdì, che ha rappresentato anche una tappa di avvicinamento alla 56esima edizione della fiera degli uccelli, in programma comunanza per tutta la giornata di domenica 6 ottobre. Ospite d'eccezione dell'incontro, Guido Bertolaso, ex direttore del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e attualmente assessore regionale al welfare in Lombardia. Bertolaso ha colto l'occasione per visitare il centro polifunzionale inaugurato due anni fa dalla Croce Rossa. Mi pare che sia una struttura, a parte il fatto che è molto bella anche da un punto di vista architettonico, ma strategicamente è una struttura fondamentale per un territorio che è soggetto a così tanti rischi naturali e anche umani come questa zona. Quindi avere un punto di riferimento, un centro di raccolta di quelli che sono i mezzi tecnici, di quello che può essere anche il coordinamento di tutte le strutture, dal modo volontariato fino ai Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine, le strutture di protezione civile, mi sembra che sia un valore aggiunto che va sfruttato e valorizzato al massimo. C'è grande passione, grande impegno, c'è anche un numero importante di volontari che sono coinvolti, anche un'età media che è anche questa sorprendentemente bassa rispetto a quelli che sono i numeri ai quali ero abituato. Quindi ci sono tutte le condizioni per fare davvero di quest'area un punto di riferimento e anche una base per esercitazioni. All'incontro hanno preso parte anche il commissario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli, l'assessore regionale Andrea Maria Antonini, Rino Mini, CEO di Tini SRL, Fabio Renzi della Fondazione Simbola, il consulente marketing Tommaso Nibali, Emanuele Frontoni e Marina Paolanti dell'Università di Macerata. Tutti insieme dunque per provare a rilanciare ulteriormente il territorio comunanzese e quello dei Sibillini. Ci fermiamo a pochi istanti e poi torniamo con il TG Sport.